Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi mostrerò come applicare il mascara in neanche 5 minuti, è super semplice, quali prodotti utilizzare per avere queste ciglia super curve e belle allungate, quindi guardate il video e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Come primo passaggio vado a pettinare bene le mie ciglia, in questo modo se tendo ad avere delle ciglia che comunque si attaccano fra di loro oppure non sono ben separate, le vado appunto a dividere con un pettinino pulito e le inizio già a dividere. Dopodiché devo essere sicura che sulle ciglia non ci sia prodotti cremosi o oli perché se no il mascara non aderirà mai alle nostre ciglia, quindi non verrà bene e sarà tutto un po' sgretolato e non sarà bello l'effetto. Quindi nel primo passaggio ciglia ben pulite e pettinate. Un prodotto che vi consiglio se avete delle ciglia magari un po' deboli o ne avete poche, ci sono tanti brand che fanno questi sieri per le ciglia. Io le ho già belle folte, quindi non le utilizzo, però comunque anche Clio, Veralab, Astra li fa, quindi magari se avete delle ciglia un po' deboli e magari quei prodotti possono fare al caso vostro. Dopodiché il secondo prodotto che io utilizzo è il piegaciglia, questo strumento che fa paura a tutti ma non fa assolutamente nulla. Certo bisogna saperlo utilizzare perché se non lo si sa utilizzare ci si fa male, però non succede niente, una volta che si è imparato non succede assolutamente nulla. Quindi il piegaciglia si impugna in questo modo, si guarda dritto davanti a noi e si fanno entrare bene le ciglia e si appoggia la parte questa qua alla palpebra. Una volta che le ciglia sono entrate, le vedete comunque, pian piano schiacciate, vedete che le ciglia sono dentro, fate 1, 2, 3 in maniera molto leggera, così capita anche se avete della ciccetta dentro oppure no. E poi pian piano lo spostate fino ad arrivare alle punte delle vostre ciglia. In questo modo le ciglia pian piano si andranno ad incurvare e se avete delle ciglia che tendono a rimanere dritte o comunque delle ciglia piccoline, questo vi può aiutare. Mi raccomando però fatelo in ogni direzione, quindi dal lato esterno, nel lato interno. Esistono vari tipi di piegaciglia, un po' più piccoli, anche più grandi perché magari ha l'occhio un po' più grande, però è un prodotto che se imparato ad utilizzare non fa assolutamente nulla, anzi aiuta le vostre ciglia ad essere ancora più aperte e più voluminose. Quindi piegate, fate tac tac e in un secondo avete fatto. Dopodiché prendete il vostro mascara preferito, il mio preferito dell'ultimo periodo è il 360 Flip di Kigyo, è incredibile. Ha questo scovolino qua, tutto intorcigliato, come si chiama, a spirale e incominciamo ad applicarlo. Innanzitutto io parto applicando lo scovolino all'attaccatura delle ciglia, faccio zigzag e tiro, appoggio, zigzag e tiro. E poi dopo pettino. Prima però faccio sempre zigzag e tiro, in questo modo vado a depositare il colore all'attaccatura delle mie ciglia. In questo modo sono sicura che appoggiando e facendo zigzag le mie ciglia vanno ad incastrarsi bene tra le varie setole e quindi saranno tutte belle piene e si coloreranno tutte anche all'attaccatura, perché molte volte se si parte così le ciglia all'attaccatura non si colorano. Invece facendo questo modo le ciglia si vanno tutte a colorare per bene e saranno tutte uniformi. Quindi io parto pettinandole in questo modo e pian piano le lavoro tutte, partendo dall'esterno e le tiro un po' in fuori, così si aprono a ventaglio. Poi con la punta sistemo l'angolino interno, perché anche quelle vanno sistemate in modo tale che si vedano. E in questo modo, in due secondi, ho applicato il mio mascara. Se volete applicarlo nelle ciglia inferiori, ma avete paura che lo scovolino sia troppo grande, c'è tipo questo mascara qua di Kiko, che ha l'applicatore minuscolo, questo qua, ed è perfetto per essere applicato nelle ciglia inferiori. Io guardo verso l'alto e abbasso un pochino la testa, in questo modo non mi sporco, e faccio la stessa cosa, appoggio, zigzag e tiro. E con questo scovolino qua è ancora più semplice, perché essendo piccolo non rischio di sporcarmi. Et voilà! Guardate qua che bell'effetto! E questo è l'effetto finale, una volta applicato il mascara, secondo me il mascara è proprio un prodotto fondamentale. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo nel prossimo video!